La marca trevigiana è nella morsa della crisi a rischio default industriale. La dettagliata radiografia comprensorio per comprensorio è realizzata dalla CGL che lancia l'allarme deindustrializzazione. 754 alle aziende colpite della crisi dal 2008 al 2012. In 5 anni la marca ha perso oltre 11.000 posti di lavoro. Il 2011 è stato l'anno horribilis con l'uscita dal mondo del lavoro di oltre 3.000 unità. Ci sono territori trevigiani che si stanno svuotando. Noi dobbiamo creare alternative per quei territori, per quei comuni, per quelle zone. E creare alternative può essere anche al di fuori del sistema produttivo. Dal metalmeccanico al settore del legno al commercio non c'è comprensorio che si salvi. In questo scorcio di fine 2013 a soffrire il settore del legno incapace di aggredire i mercati esteri. Per salvarlo un'idea potrebbe essere una sorta di IGP del mobile. La rete fra le aziende sarebbe auspicabile proprio perché ognuno nella loro specificità possono in qualche maniera rispondere alle esigenze del mercato. I dati non lasciano dubbi sulla drammaticità della situazione. Nel solo comprensorio della Castellana dal 2008 ad oggi sono 1.284 i posti di lavoro persi. Nel Monte Bellunese 824. Lo stesso vale nello Pitergino Mottense legato al legno. Il comprensorio di Treviso si attesta a meno 1.821 posti di lavoro. Mentre il Vittoriese ne lascia per strada 687. Non sta meglio il comprensorio del Coneglianese con meno 1.104 lavoratori. Rischiamo di in qualche modo un lento declino se non diamo una risposta subito. Come l'impressione che se non si interviene a salvare le gambe poi per camminare sarà sempre più duro. Intervenire ora è subito altrimenti quando la crisi finalmente finirà spiega la CGL. La marca non avrà la capacità per risollevarsi. In attesa che il governo intervenga in tema di cuno fiscale, agevolando chi investe, colpendo le renditi, rilanciando i consumi e alleggerendo la pressione fiscale sui salari, l'appello è rivolto alla Regione. È un appello alla Regione perché in termini di politica industriale, chiaramente aspettando che nel nazionale facciano qualcosa in termini di concreti su questo ambito, pensiamo a una legge di stabilità che guardi al lavoro, è chiaro che l'altro soggetto importante è la Regione e deve intervenire con tutti gli strumenti che ha a disposizione, compreso Veneto Sviluppo.